Lorenzo Spolverato, una nuova bufera fuori dal grande fratello. Il concorrente che nell'ultima puntata, quella di lunedì scorso, ha detto ad Alfonso Signorini di voler riprendere a conoscere Elena Prestes dopo la battuta d'arresto anche per via dell'avvicinamento a Shaila Gatta, ne ha sparata un'altra. E no, la diretta H24 dalla casa non sta giocando a suo favore. Non è la prima volta che il modello commette un grosso scivolone. È come se si dimenticasse di essere ripreso costantemente dalle telecamere, anche se a questo punto il pubblico inizia ad avere seri dubbi su di lui e sul suo ruolo all'interno del reality show di Canale 5. Ma insomma, cosa ha fatto questa volta? L'ultima sparata è di Lorenzo e su Maria Vittoria, il medico estetico di 31 anni che fino a qualche giorno fa si era legata a Tommaso nella casa. In camera da letto con le non è la Rai, l'inquilino stava proprio parlando di Mavi quando tutto un tratto ha aggiunto, vabbè ma lei cos'è che fa, l'estetista? Non c'è da vederci necessariamente cattiva fede in questa frase, ma le stesse non è la Rai hanno intravisto un pensiero poco carino tanto che Pamela ha iniziato a dire questo è matto, mentre Ilaria si sbellicava dalle risate immaginando la brutta reazione di Maria Vittoria se fosse venuta a conoscenza di questa uscita. Buona fede o no, troppa leggerezza o no Lorenzo non ha fatto una bella figura, anzi. Ha sminuito il lavoro della coinquilina, ma anche quello dell'estetista è tanto che in rete è subito finito massacrato. Sei anni di studio infernale ti lauree in medicina con 110 e lode fai un anno di anatomia patologica e poi un master per specializzarti in medicina estetica e qualcuno ti viene a dire che sei un estetista letteralmente lo prenderei a pugni. Si legge tra i tanti.